Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio. Stanotte in orario 21.6 saranno chiusi i tratti tra Roncovilaccio e Pian del Voglio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. A Firenze oggi dalle 9 alle 18.30 per un intervento sulle alberature e chiusura di via Pistoiese in ingresso città nel tratto via Campania via Nave di Brozzi. Ricorda che oggi sono previsti uno sciopero nazionale e due aziendali di quattro ore che coinvolgeranno autolinee toscane. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!